Sorpresa incredibile alla Sardegna Arena, dove il Cagliari riesce a battere l'Atalanta con risultato di 2 a 1. Partita veramente inizialmente equilibrata, però già lì è abbastanza preoccupante pensare che una scuola come l'Atalanta e una scuola come il Cagliari giocano allo stesso livello. Partita molto molto deludente dell'Atalanta, ha giocato veramente male dal primo all'ultimo minuto, un'Atalanta che non ha capito niente ed è stata messa in difficoltà dal Cagliari dal primo all'ultimo minuto ed è un bruttissimo segnale sia per la qualificazione, per lottare per la qualificazione di Champions League e anche un bruttissimo segnale pensando che giovedì l'Atalanta dovrà affrontare Liverpool e che ha appunto pareggiato oggi con l'Unione 2 a 2. Bruttissimo segnale di una squadra veramente in crisi, oggi non in generale ma oggi, l'acquisto più brutto che hanno fatto in Serie A l'hanno fatto loro con Baccher, per far capire Baccher la grandissima partita che ha fatto è che è entrato all'inizio del secondo tempo e Gasperini non ne poteva così tanto più di lui che all'ottantesimo minuto l'ha mandato fuori. Non ha molto senso ma fa capire molto quanto non lo sopportava più Gasperini. Però parlando della partita, l'Atalanta passa in vantaggio inizialmente col gol di Scamacca, l'undicesimo in questa stagione e il secondo consecutivo dopo il gol che ha fatto settimana scorsa contro il Napoli. Scamacca si inventa un altro gol e passa appunto l'Atalanta in vantaggio, se lo inventa anticipando, scuffetta, andando di velocità e appunto riesce a realizzare il gol del vantaggio. Prima della fine del primo tempo però il Cagliari riesce a pareggiare il vantaggio iniziale della Dea con un gol di Eugello su assist di Shomurodov su una disattenzione incredibile della difesa dell'Atalanta. Inizia ad approfittarne e il risultato va sulla parità. Dopo un secondo tempo in cui la prestazione dell'Atalanta andava sempre scendendo e al contrario invece quella del Cagliari andava sempre aumentando di intensità, di carattere, di concentrazione, di minuti in minuto, all'ottantasettesimo minuto Nicolas Viola la decide con un colpo di testa che non è la sua caratteristica principale, un colpo di testa alla Pavoletti che la mette talmente tanto angolata che Carnesecchi non riesce ad arrivarci e con quel colpo di testa, con quel tifo, quella gioia della Sardegna Arena il Cagliari riesce a vincere una partita veramente molto molto importante confermando che in casa riescono a fare risultato chiunque sia l'avversario. Claudio Ranieri si è visto molto emozionato, non faceva uscire perché voleva aspettare i minuti finali, il fischio finale dell'arbitro, però sicuramente è stato un risultato sorprendente che fa piacere questo sport sempre sempre di più confermando che anche le piccole riescono a battere le grandi come succede anche ad esempio in Inghilterra. Partita, come ho già detto, deludente del Baccar sicuramente il peggiore di tutti Korkminers deludente che è stato sostituito al cinquantesimo minuto uguale a Scamacca per far entrare De Ketelera e il Bilal Touré sintomo anche che Gasperini se la sentiva secondo me di vincere questa partita e di far riposare i suoi uomini migliori in vista del Liverpool giovedì ma quanto pare la mossa non ha funzionato e adesso l'Atalanta che adesso dovrà vedere data appunto la vittoria della Roma nel derby il punto che ha guadagnato il Bologna adesso l'Atalanta è sempre più difficile mandare in Champions League però va a contare comunque la partita in meno a chi ha da recuperare con la Fiorentina. Invece dall'altro campo il Verona riesce ad andare in vantaggio inizialmente contro il Genoa al Bentagodi che poteva essere un risultato veramente molto importante per la salvezza che poteva fare la stessa cosa che ha fatto appunto il Cagliari ma invece col gol di Bonazzoli secondo gol consecutivo nelle ultime due giornate tre gol in stagione Bonazzoli riesce a confermarsi e a far sperare appunto i tifosi del Verona che però la gioia dura veramente molto poco inizialmente all'inizio del secondo tempo riesce Kuban a pareggiare la partita e poi il solito Albert Hudson riesce a ribaltare la partita a rimontare e a portare i tre punti a casa che saranno i 38 punti e ormai sta arrivando anche la salvezza matematica anche se non erano mai stati inclusi in una lotta salvezza che fanno parte Frosinone l'Udinese che rischia tantissimo adesso con la vittoria del Cagliari adesso rischia molto anche l'Udinese la vittoria dell'Empoli ma comunque la matematica sta iniziando ad arrivare anche per il Genoa Gudmundson stagione spettacolare dodicesimo gol in stagione quello appunto segnato oggi che ha deciso la vittoria contro il Verona e quindi il Genoa di Gilardino al parte giocare bene Gilardino è anche un allenatore che quest'estate vedremo che sarà richiesto è il primo nome con Palladino per il post italiano alla Fiorentina bisognerà vedere come andrà avanti voi cosa ne pensate? questo gol del Cagliaris potrebbe risultare decisivo per una possibile salvezza dato anche che adesso c'è partite difficili come Inter, Juve ma secondo me questo gol di Viola è un gol, appena l'ho visto che mi dava quelle vibrazioni di gol da documentario cioè non so se devi riuscire a farmi esprimermi bene è quel gol che vedi in un documentario di un'impresa calcistica ad esempio come la salvezza del Crotone è quel gol che ti fanno vedere rivedere per essere decisivo per un'impresa e secondo me questo gol sarà decisivo per la salvezza del Cagliari voi cosa ne pensate? siete d'accordo con me? fatemelo sapere nei commenti grazie